Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che si è appena conclusa. Questa come sempre è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è come sempre buonanotte mercati ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti bentornati su Io risparmio, io come sempre sono Pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto ed educatore finanziario AIF. Come ogni lunedì buonanotte mercati vi da un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possano avere impattato gli investimenti ma soprattutto la nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre in maniera molto distaccata dando solo numeri non sensazioni. Cominciamo subito. Tra le notizie più importanti della settimana la prima che vale la pena di menzionare è che l'azienda di turismo spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, ha completato il suo quinto lancio con equipaggio proprio sabato dopo che il sistema di backup di un razzo del New Shepard che non aveva soddisfatto le aspettative ha ritardato il viaggio che era previsto invece il mese scorso. Il quarto volo di Blue Origin è atterrato con successo a marzo nel Texas occidentale dopo aver portato sei passeggeri per un viaggio di circa dieci minuti ai confini dello spazio. Il viaggio suborbitale della compagnia dura appunto all'incirca dieci minuti dal decollo all'atterraggio e raggiunge un'altitudine di circa 350.000 piedi, circa 106 chilometri, regalando ai passeggeri alcuni momenti di assenza di gravità prima di una discesa sulla terra per un atterraggio che viene fatto col paracadute. Questo fa parte di uno sforzo in corso da parte di una manciata di aziende tra cui appunto SpaceX di Elon Musk e Virgin Galactic di Richard Branson che si stanno impegnando per trasformare i viaggi nello spazio in realtà. Finora Axiom, SpaceX e NASA hanno pubblicizzato queste missioni come una pietra a miliare nell'espansione del commercio spaziale finanziato dai privati, costituendo ciò che gli addetti ai lavori confermano chiamare economia dell'orbita bassa terrestre. La seconda riguarda l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk che ha dichiarato che l'organico totale del produttore di veicoli elettrici aumenterà nei prossimi 12 mesi, ma il numero del personale stipendiato invece dovrebbe essere leggermente modificato tornando indietro a un'email di appena due giorni fa che appunto diceva che si aspettava un taglio di posti di lavoro del 10% che erano necessari. Elon Musk in una email ai dirigenzi di Tesla che era stata fatta giovedì e che è stata vista da Reuters venerdì ha affermato di provare una pessima sensazione sulla economia statuniense e di dover tagliare posti di lavoro di circa un 10%. In un'altra email ai dipendenti sempre di venerdì Musk ha affermato che Tesla ridurrà l'organico salariato del 10% poiché è diventata accorto di personale in molte aree, ma il personale orario invece aumenterà detto. Secondo un deposito normativo di Tesla negli Stati Uniti l'azienda e le sue sussidiarie avevano quasi 100.000 dipendenti alla fine del 2021. Prima delle sue due email sui livelli del personale Musk mercoledì in un email ai dipendenti di Tesla ha emesso un ultimatum per tornare in ufficio per un minimo di 40 ore a settimana. In caso contrario, dice Musk, sarebbero state prese come dimissioni. La terza notizia riguarda il Hubbard Laboratories che ha dichiarato sabato di aver riaperto il suo impianto di produzione di latte artificiale a Sturgis nel Michigan compiendo un enorme passo avanti per alleviare una grave carenza a livello nazionale appunto di latte in porvele. La società ha affermato che inizierà la produzione di L-Care di alte specialità a formule metaboliche con il rilascio iniziale del prodotto L-Care ai consumatori già a partire dal 20 giugno circa. La chiusura dell'impianto e il ritiro del latte artificiale avevano aggravato la carenza di forniture in cui una nazione in cui secondo i dati federali a meno del 2020 meno della metà dei bambini è stata allattata esclusivamente al seno durante i primi tre mesi. Circa il 76% dei prodotti per l'infanzia è esaurito a livello nazionale a partire dal 22 maggio secondo i dati di Data Assembly. Abbott ha avviato un richiamo a febbraio dopo le segnalazioni di infezioni batteriche nei bambini che avevano appunto consumato la formula prodotta in questo stabilimento. L'ispezione dell'impianto di Sturgis da parte della FDA ha rivelato risultati scioccanti tra virgolette come viene indicato in un articolo come crepe nelle apparecchiatore vitali, mancanza di un adeguato lavaggio delle mani e prove di una precedente contaminazione batterica. Abbott ha affermato che non ci sono prove per collegare le sue formule alle malattie mentre l'ispezione della FDA ha rilevato batteri nei test ambientali e non nei campioni di prodotto che sono stati prelevati. Prima di questo richiamo Abbott controllava circa il 40% del mercato degli alimenti per lattanti, compreso Silimac, ma da quando la quota di mercato di altre società come Racket Beckinsale Group è cresciuta appunto questa quota di mercato è stata piuttosto diminuita. Basta notizia e andiamo invece a parlare dei numeri che questa settimana vanno a tornare su prestazioni negative anche se non sono pessime come alcune settimane precedenti. L'indice peggiore americano è l'S&P 500 che dà una perdita su base settimanale di circa l'1,20% mentre il Nasdaq chiude di poco al di sotto del meno 1% fermandosi appunto a uno 0,98% di perdite così come fa il Dow Jones che chiude a un meno 0,94%. Il meno peggio è il Russell 2000 che chiude la settimana con un meno 0,26%. Per quanto riguarda invece gli indici mondiali fra i peggiori abbiamo il Moex Luxo con un meno 4,14% seguito poi dal Caracci 100 che lascia un meno 3,61% sul terreno e poi lo SP BMW IPC messicano che chiude con un meno 3,68%. Indici migliori sono la borsa di Budapest con un quasi più 7% e precisamente un più 6,88% poi il Bist 100 Turco che chiude con un ottimo più 6,66% e l'RST russo con un più 5,79%. Il nostro carissimo e adorato Fuzzimib lascia sul terreno invece un meno 1,91%. Per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense questa settimana alti e bassi piante risate ma niente di tragico o di euforico da entrambe le parti. I peggiori settori sono le linee aeree e il comparto automobilistico che danno entrambi la stessa performance con un meno 5,5% seguiti dal settore del tabacco con un meno 4,9% e infine healthcare con un meno 4,5%. Se noi invece a vedere i settori migliori le vendite online con un più 4,1% sono il settore migliore a seguire il settore del lusso con un più 3,5% positivo e infine i personal products con un più 3,1%. Chiudiamo come sempre con il mondo crypto che questa settimana danno un po' delle performance miste. Ethereum che ad oggi 5 giugno 2022 giorno della registrazione di questo video guadagna un più 0,37% mentre il re delle criptovalute e il bitcoin guadagna circa un 2,40%. Ottima la performance di Cardano con un più 21,12% e di XML Stellar che guadagna un più 16,37%. Fra le peggiori e maggiore capitalizzazione sicuramente quella che va peggio è Solana che perde quasi un meno 9%. In generale il total crypto index stock market inclusivo di bitcoin perde comunque o meno 1,35%. Bene eccoci arrivati anche alla fine del mini aggiornamento dei mercati per la settimana che si è appena conclusa. Come sempre dove ci porterà il futuro i mercati e gli rendimenti? Con questa rubrica non possiamo saperlo però guardiamo al passato e cerchiamo di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci in futuro. Spero che questo contenuto sia stato come sempre apprezzato di gradimento e se così fosse per favore lascia un commento o un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Come sempre buonanotte mercati torna lunedì prossimo e invece noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!